Grazie Sì, sono contento Ila, diglielo un pallo Ila Al bar Cazzo, Leonano, al bar Non l'ho scopata quella di lei Eppure oggi Perché a scuola Le proteine Se le stavano mangiate Comunque Dove sono arrivato Buongiorno a tutti e buona domenica Ciao a tutti, mi chiamo Stefano Pollari Nella vita in realtà Ho 30 anni Ma oggi sto bevendo il mio fantastico Sorbetto con i miei nuovi amici Perché mi piace giocare Non fate così, ma che state facendo Come vi permette Ma guarda che incredibile E' come andare a cavallo quando capi da cavallo No 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 è cascato un dente bella sembri Moira Orfei sembri Moira Orfei ragazzi miei volevo cogliere intanto l'occasione per ringraziare tutti quelli che sono venuti alla Cacera Night, spero che vi siate divertiti ci sarà un altro appuntamento molto presto quindi seguitici sui social e volevo dirvi che è stata una serata meravigliosa perché siete stati veramente molto molto belli, molto 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 educati è stata un gran successo, sono contento stavo pensando ad una cosa e l'altro giorno stavo leggendo un articolo praticamente in tutta Europa, in alcune città d'Europa c'è praticamente il sindaco della notte quindi una persona che si occupa di tutelare un mondo che ovviamente anche e soprattutto ai giorni d'oggi sperando che poi riescano un po' a riaprire tutto quanto fa guadagnare un sacco di soldi ad una città, infatti ci sono un sacco di città che sono un po' sprecate non sarebbe figo avere il sindaco della notte anche qui in Italia? secondo voi? Qualcuno che si occupi delle serate buonasera a tutti se non avete capito quella zona erogena è molto particolare questa sera è riservata se viene un lobo la cara del castor, però che si sono? un video che fa molto grazie a tutti i miei sono i video dell'arma io lo che faccio è coger la vita quotidiana e estremizzarla e i video di schiamare finirà se mi chiamo un mangiato a mezzino e l'altro non lo sbarro a mezzino si ragazzi si sta a prendere cazzo basta a tutte le mie amiche di Roma meglio ancora zona ostia c'è Leonardo che ha un posto libero a letto quindi vi sta aspettando ragazzi ragazzi se mi ha la dieta io vorrei iniziarla io vorrei iniziarla la dieta io vorrei iniziare la dieta guarda Federica che si è stata uscita la bavetta durante la storia ah questa è la quella quest'altra ragazzi non ce la faccio grazie mille ragazzi garden al garden grazie a tutti quanti alla cacciara night al garden e presto siamo in questo locale maraviglioso e sto cercando delle donne qua se volete fare l'amore vi aspetto in questo locale meraviglioso siamo al Gianicolo di Roma appoggiati appoggiati beh con l'aiuto con l'aiuto è facile che bello ragazzi anche stasera mi hanno scritto delle parole meravigliose sulla macchina no ma oddio sei proprio coso ma sei l'influencer che vaffanculo ragazzi miei che format che format che ogni volta che esca a far serata abbia la voce come Thanos Tano Tano non mi è mandato a quel paese buongiorno buona domenica andiamo a lavorare allora buona domenica a tutti quanti visto che oggi è realmente domenica voglio farvi una domanda chi è come me in hangover totare 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 al santi brufoli